Prova! Buongiorno! O forse dovrei dire buon pomeriggio! Oggi in ogni caso siamo qui con una nuova distribuzione. Oggi non farò una recensione di una distribuzione, bensì parlerò di questa distribuzione per conoscenza. Nel senso che, come molti di voi sapranno, io attualmente utilizzo Arch Linux. Però, prima di utilizzare Arch Linux, avevo utilizzato per qualche mese, insomma giusto il tempo per farmela piacere, Antergos. Però, dopo pochi mesi che io ero passato ad Arch Linux, Antergos è stata abbandonata. È stato un attimo uno scombussolamento, diciamo così, perché fino a quel momento sapevo che, se avessi avuto problemi con Arch Linux, avrei potuto reinstallarlo in pochi click con Antergos. Ma, dal momento che Antergos era stata abbandonata, ciò non era più possibile. Pensavo questo finché poi non ho conosciuto, circa un annetto fa, Reborn OS. In realtà, Reborn OS esiste da molto di più di questo tempo. Ho visto degli screenshot del 2018, quindi non è nata per colmare il buco lasciato da Antergos, esisteva già. Però, secondo me, tra gli utilizzatori di Antergos, potrebbe aver preso utenti, perché appunto è molto simile anche nell'installer, praticamente in tutto. Vediamo velocemente il sito. Intanto scendiamo un po'. Cos'è sta roba? Che figata! Vabbè, comunque vada. Scendiamo. Come vedete, qui abbiamo degli screenshot dell'installer. Come vedete, l'installer è simile, per non dire uguale, a quello di Reborn, a quello di Antergos, perché appunto è CNKey. Non so come si pronuncia. CN6HI, forse così. Comunque, vabbè, CNKey, diciamo CNKey all'italiana. Abbiamo ben 10 desktop environment, in confronto ai 5, se non ricordo male, di Antergos. E il bello è che questi desktop environment sono già temizzati dal momento dell'installazione, quindi poi non dovete voi scaricare e installare manualmente i temi. Ovviamente potete farlo nel caso i temi di default non vi piacciono, però non è obbligatorio perché esistono già differenze, ad esempio, di Arch, che quando tu installi Arch nudo e puro, l'Arch originale, diciamo così, hai il desktop environment che hai scelto, che può essere XFCE, come nel mio caso, o qualsiasi altro desktop environment, che non è molto bello da vedere, te lo devi personalizzare manualmente. Però, tralasciando questo, scendiamo un altro po'. Ha veramente tante funzioni, come vedete, manutenzione, display manager, vabbè, questo è ovvio. Manager dei pacchetti, kernel manager, anche un'altra cosa molto interessante, kernel manager. System rollback, nel caso abbiate dei problemi con il sistema, dopo un aggiornamento potete tornare indietro. Insomma, ha delle utility veramente belle, utili, interessanti. Però io ripeto, in questo video non farò una recensione della distribuzione dopo installata, quella magari in un altro video, però per oggi vediamo solo l'installazione perché altrimenti il video diventerebbe eccessivamente lungo. Per scaricarlo, ovviamente, andiamo in download. E qui scegliamo quello che vogliamo. Ovviamente sapete che LTS è il kernel più stabile, la versione del kernel un po' più vecchiotta rispetto a quella mainline, rispetto all'ultima uscita, però è più stabile. A me piace avere l'ultima versione di tutto e quindi io ho scaricato questa qui con l'ultima versione del kernel, Linux. Quindi, fatta questa velocissima overview, andiamo a vederla. Mettiamo schermo intero come al solito. Commuta. Qui abbiamo Systemdboot, classico delle distribuzioni Arch-based, anche Arch di per sé è Systemdboot, tranne, tranne, Mangiaro, però sapete che Mangiaro non è un Arch-based in tutto e per tutto, perché ad esempio Reborn o altre distribuzioni, Endeavor, eccetera, sono praticamente Arch vero con un installer grafico, mentre Mangiaro no, perché i propri repository, i propri cicli di rilascio non è proprio un Arch dura e pura. In ogni caso, per avviare la distribuzione, qui facciamo semplicemente invio, a differenza di Antergos, qui non possiamo scegliere, perché mentre con Antergos potevamo scegliere tra la ISO completa e la ISO minimale, la cui differenza era che quella completa aveva il Desktop Environment Gnome sulla Live, mentre quella minimale aveva un'interfaccia più leggera e molto scarna, qui invece abbiamo solo la versione completa, diciamo così. Ok, ok, ok. Anche qui esattamente come per Antergos, appena si avvia parte direttamente l'installer, quindi non dovete aprirlo voi, basta semplicemente aspettare qualche secondo e in automatico si aprirà l'installer. Ok, si è avviato anche l'installer? Direi di partire subito, clicchiamo Install it e non ci pensiamo più. Lingua, italiano. Qui ho tutto soddisfatto, perfetto, avanti. Continente, territorio o aria, Italia. Fuso orario, Italia. Tastiera, italiana. Desktop environment. Allora, vediamoli molto velocemente. Base non è un desktop environment in realtà. È praticamente un'interfaccia non grafica, un'interfaccia testuale in cui l'unica cosa che possiamo fare è dare comandi ed è particolarmente utile nei server perché nei server magari non ci interessa l'interfaccia grafica, ci basta avere un sistema operativo funzionale. Ecco, su un server in produzione non ci installerai Arch però, tralasciando questo, magari per un server casalingo può anche starci perché Arch è veloce, scattante, eccetera, eccetera. In ogni caso, se con il vostro computer pensate di fare un utilizzo normale, quindi browser, eccetera, eccetera, sicuramente Base non va bene. Abbiamo Budgie che è il desktop environment del progetto Solus abbastanza leggero e tutto sommato bello da vedere su Solus. Non so qui come abbiano fatto le personalizzazioni. Abbiamo Cinnamon il desktop environment di Linux Mint creato appunto dal team di Linux Mint per Linux Mint. Bello, si è personalizzato bene però è pesantino. D-Pin D-Pin è il desktop environment creato dal team di D-Pin Linux per appunto la loro distribuzione. Un desktop environment bello corposo anch'esso abbastanza pesantino però bello da vedere. Ma come c'è scritto qui attenzione perché tieni in mente che il desktop D-Pin spesso può essere stabile perché fanno la furbata. Dal momento che qui non c'entra il team di Reborn OS ma c'entra appunto il team di D-Pin loro utilizzano come c'è scritto anche qui gli utenti di Arch Linux come beta tester per il loro desktop environment. GNOME un desktop environment personalmente a me non piace e anche abbastanza pesante credo sia in assoluto uno dei più pesanti. I3 che non è un vero e proprio desktop environment e un window manager come c'è scritto qui. I window manager hanno la caratteristica di essere molto leggeri quindi vanno bene anche nei computer non performanti non molto potenti e sono personalizzabili di contro abbiamo ovviamente un'interfaccia grafica molto più scarna rispetto al desktop environment. KDE uno dei desktop environment più belli da vedere però non è che sia proprio leggerissimo. Non è uno dei più pesanti però non è nemmeno uno dei più leggeri ecco. LXQT che è come c'è scritto anche qui la generazione successiva di LXDE infatti è LXDE con le librerie QT. Mate un altro desktop environment che non mi affascina però è leggero funzionale anche esso abbastanza adatto ai computer non proprio performanti. Openbox ancora una volta non è un desktop environment ma un window manager. Pantheon che è il desktop environment creato dal team di Elementary OS abbastanza leggero bello da vedere richiamo un po' lo stile di MacOS. E infine XFCE che è il mio desktop environment preferito leggero personalizzabile credo sia uno dei più personalizzabili ora vediamo la prossima schermata ovviamente nella prossima schermata se io sceglio se io scelgo base qui ho meno funzioni o meno cose installabili diciamo rispetto a un desktop environment perché molte cose esistono grazie all'interfaccia grafica al desktop environment e se questo non viene installato non servono. Ma scegliamo un desktop environment qualsiasi ovviamente io vado avanti e facciamo una veloce spiegazione di ciò che è allora la prima opzione come c'è scritto serve per le persone che hanno grossi problemi di vista o che addirittura sono cieche quindi sono dei pacchetti aggiuntivi che aiutano le persone applicazioni per la manutenzione di sistemi Linux se ci mettiamo sopra dovrebbe anche dirci quali sono non ne conosco neanche uno tranne Timeshift che un backup che un software per il backup del sistema Chromium Web Browser era il mio browser di prima scelta prima che Google facesse la scelta di rimuovere la sincronizzazione ora su Chromium la sincronizzazione non esiste più quindi non è possibile salvare preferiti cronologia pagine visitate più spesso eccetera eccetera sull'account Google di conseguenza se per qualche motivo dovete disinstallare Chromium oppure vi si sminchiar ci dovete reinstallarlo perdete tutto dopodiché abbiamo programmi di fotoeditor di fotoediting abbiamo GIMP GIMP lo conosco GT TAMB Rapid Photo Downloader Raut Therapy in Dart Table allora io non sono un fotografo non conosco nessuno di questi software a parte GIMP perché lo uso per le miniature non so se siano buoni o meno però io invece vi posso parlare del video editing OpenShot KDN Live PTV e David Emux buoni software anche se io se dovessi installare Reborn OS non selezionerei questa spunta perché io utilizzo Shotcut quindi qui non è presente e non mi interessa Dropbox vabbè non serve che lo commento Firefox Developer Edition e Firefox per i sviluppatori è una specie di beta più instabile e più tutto scendiamo FreeOffice che è un'alternativa gratuita a Microsoft Office ecco Google Chrome originale quindi se volevate installarvi Chromium potete invece installare Chrome che supporta la sincronizzazione Analisi Hardware che serve per fare benchmark leggevo prima Firefox vabbè non serve che lo commento Kernel versione LTS ovvero la versione più stabile come ho detto all'inizio io la tolgo perché non mi interessa LibreOffice vabbè non serve che lo commento Opera Web Browser un web browser molto leggero minimale basato non mi ricordo più se su Chrome o su Chromium giochi popolari per Linux io non sono un gamer comunque Zero AD Battle for West North Super Tux ecco Super Tux Kart è bellissimo si intende quello è bellissimo e poi giochi basici come il solitario campo minato Sudoku e vabbè software per la gestione dell'energia temperatura della CPU risparmio energetico eccetera eccetera questo qui credo che sia per prendere appunti questo qui può essere utilizzato anche per togliere la luce blu come sapete la luce blu è dannosa questo software vi permette di disattivare la luce blu Run Windows Program on Linux qui ovviamente installa Wine ma sicuro vediamo se c'è scritto no si ecco l'ultima riga non tutti i programmi funzionano con Wine appunto installa Wine Spotify non serve che lo commento Steam più Play on Linux vabbè non sono un giocatore ma lo conosco anch'io quindi non serve che lo commento supporto Bluetooth non serve che lo commento supporto per Arch User Repository appunto Arch Linux alla Arch User Repository che ad esempio lui installa Yaourt che in realtà è discontinuato quindi io per esempio se dovesse installarlo farei così perché mi installo Yaï supporto per la stamp installa Caps credo Cups vediamo se esattamente Cups ovviamente è uno standard per la gestione delle stampanti su Linux in generale sui sistemi operativi Unix ma a me non interessa Vivaldi un altro browser anch'esso basato su Chrome o su Chromium non mi ricordo precisamente VLC non penso che lo devo commentare è semplicemente un media player quindi un player che ci permette di ascoltare audio di guardare video e poi VPS Office ancora una volta SuiteOffice per Linux fatto per chi utilizza MS Office ah poi ci sono anche le funzioni avanzate addirittura Spellcheck quindi bla 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 si ok molto 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 esplicativo questo ok se non sai cos'è non abilitarlo quindi non lo abilito ah anche condivisione SMB addirittura ah vabbè il file manager Nautilus o Nemo Nautilus è di Gnome e Nemo è di Cinnamon e basta non abilito niente faccio semplicemente avanti qui ci chiede di selezionare una partizione di cache io non l'ho mai fatto quindi facciamo avanti lasciamo che scelga lui Mirror quindi lasciamo che qui faccia il suo corso diciamo così in questo video non vi spiegherò come partizionare i diversi metodi di partizionamento perché altrimenti già credo che questo video sarà lungo se vi spiego anche come partizionare diventa lunghissimo posso fare un video apposito ma non in questo quindi scelgo che faccia lui automaticamente qui potete scegliere il bootloader dove installarlo abbiamo Group2 oppure Systemdboot completamente a vostra scelta Systemdboot è più scarno meno personalizzabile invece su Group avete anche i temi facciamo avanti inoltre esiste Group Customizer potete è più personalizzabile e ci sono anche più tool per recuperarlo nel caso si rompa però Systemdboot è un po' più semplice da gestire a mio parere il mio nome Rickman 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 no non sono un disco che si rotto tranquilli accesso automatico e avanti qui ci fa un resoconto ovviamente io non ci presto tanta attenzione perché non lo installo veramente però voi fate attenzione soprattutto su questa parte qui guardate bene le partizioni che crea e come le crea se non siete d'accordo con qualcosa fatele manualmente avanti continuiamo con l'installazione lui inizia l'installazione e qui il video si conclude quindi spero che questo video vi sia stato utile magari una base di partenza e noi ci troviamo in un prossimo video ciao belli grazie a tutti grazie a tutti